Ben, bronziato, l'è appena tornata l'emissione in Brasile, e ci auguro che è un pittà di barba, il suo merito, il signor Talis è quale, quanto il celebra che è accesa a piedi, le fonde e le scombette, faccia dal posto da barba, che predica le pietonne che fa l'applausione, ma la settimana passata, tre volte mi sono confessata, Sì, perché c'è un po' delle mie abitudini, a nascere, a nascere, a nascere, a nascere, a nascere, le 4 dell'Avemaria, adesso siamo le 5 spazi, purtroppo non è più tra noi né, sono sempre migliori ad andare, non è più per la mappa, ma se ne ha molto più per il giorno, mi sono riuscita, mi sono riuscita, e mi sono riuscita, 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 Sì, sì, sì. Scusa, è una mia serie che non troverà le cose. Ma te, che robo ti piace di me? Scusa, le scantate che mesci e l'odiamo capito. 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 L'odiamo capito. Scusa, le scantate che mesci e l'odiamo capito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.